Ciao amici da Frank Bianconero, prepariamoci alla sfida di domani della finale Supercoppa italiana Coca-Cola Super Cup tra Juventus e Lazio. Vi invito sempre ad iscrivervi al canale, a mettere un like e ditemi la vostra su cosa pensate o che siate o non siate d'accordo con il mio pensiero. Domani sarà una partita difficile, come dico sempre io, la Juve negli ultimi anni oltre al Napoli soffre molto Lazio e Atalanta, non si sa perché, spesso con la Lazio e l'Atalanta ne veniamo fuori ma sempre con partite un po' scorbutiche, anche perché si parla comunque di squadre di ottimo livello. La Lazio soprattutto quest'anno e soprattutto in questo periodo sta in una forma pazzesca, sia fisicamente, mentalmente e anche un po' di fortuna che quella, come sempre, non guasta e serve sempre. Sentendo la conferenza stampa di Sarri dovrebbe giocare la classica Juve. Ahimai penso che domani giocherà Bernardesca a posto di Higuain, giocherà come a Roma in campionato, credo. Io spero di no, se proprio dovesse mettere il trequartista spero metta Ramsey dal primo minuto con partita in corso, poiché può subentrare comunque Higuain e comunque Douglas Costa c'hai due pedine per l'attacco perché dobbiamo pensare anche all'eventualità che la partita si può anche prolungare ai tempi supplementari. Sarri mi è sembrato ora che comincia ad essere abbastanza sicuro su quello che dice, su quello che fa, su come si, come si dice, si comunica, comincia a comunicare anche con la squadra attraverso le relazioni pubbliche o attraverso le conferenze stampa, comincia a dire che si sta divertendosi in allenamento e sia soprattutto nei primi tempi, finora c'ha ragione perché nei secondi tempi veniamo un po' meno per o fisicità o ideologia di gioco o mettersi veramente nella testa dei giocatori dove è difficile, come si dice sempre in questi casi, di commutare del tutto la filosofia di gioco a quella che era la nostra filosofia di gioco del passato. E dove la frase mi ha colpito, che mi piace tantissimo, è che anche se le cose stanno andando bene, quelle che non vanno bene le dobbiamo e stiamo migliorando, dobbiamo essere sempre scontenti per poterci migliorare. Questa la trovo una frase stupenda, sempre aderente allo sport, ma comunque è un'ottima frase come principio, a prescindere dove la si applica. Io con la Lazio non ho visto una brutta Juve, a dispetto di chi dice che la Lazio ha meritato contro la Juve, io continuo a dire, l'ho rivista la partita di campionato, non mi sembra, io penso che per 65 minuti o fino all'esposizione di quadrato la Juve non dico dominato, ma abbia ampiamente gestito nei migliori dei modi la partita e non meritava sicuramente il passivo di 3 a 1 a fine gara, però il calcio è di episodi, posso andare a favore o sfavore, sia dal punto di vista di qualche svista o errori difensivi, perdi la partita, senza nulla a togliere la Lazio che ha un'ottima qualità tecnica, soprattutto a centrocampo, il centrocampo alla Lazio glielo invidio un po'. Il dubbio che mi viene, oltre a quello che forse giocherà ai me, ripeto ai me di nuovo Bernardeschi, è che domani potrebbe giocare di nuovo De Miral, perché la Lazio è pericolosissima in ripartenza e in verticale, è dove il difensore più veloce che abbiamo negli spazi aperti è De Miral. Se poi ci dovesse essere qualche cambiamento è perché giocherà De Sciglio a destra, Alexandro a sinistra e così vuol dire che giocherà con il tridente Sarri, perché se gioca a quadrato e Alexandro come, diciamo, terzini, come la linea difensiva diventa difficile vedere il tridente ci dovremmo sorbire di nuovo Bernardeschi, questo mi sembra abbastanza logico perché non puoi permetterti i tridenti più due terzini che spingono, più un Pjanic che oltre che non è in grandissima forma non ha quella velocità e quella rapidità di esecuzione sia nel pressing che sia nel far girare la palla. Perciò speriamo bene, cerchiamo di portare a casa questa coppa perché dobbiamo sempre sapere che se la vinciamo è una coppetta che si doveva vincere, se la perdiamo gli altri fanno sempre una grande impresa, perciò noi cerchiamo sempre di rimpinguare lo Juventus Museum e gli altri magari li faremo ancora guardare qualche nostro festeggiamento. Perciò in bocca al lupo a tutti, speriamo che sia una bella partita, fino alla fine Forza Juve, iscrivetevi al canale. Ciao da Frank Bianconero.